Manca ormai poco all'inizio della Pasqua e fervono infatti i preparativi per la Settimana Santa 2023. Intanto la categoria dei panificatori, pasticceri e cuochi della Real Maestranza ha proceduto all'elezione dei propri rappresentanti in vista delle prossime processioni. La categoria, preseduta da Antonio Domenico Matteo Amico, si è riunita in assemblea nei locali della Chiesa San Pietro in presenza dell'assistente spirituale, padrerino dell'ospedale Alongi. Oltre ad avviare la macchina organizzativa dei riti pasquali di quest'anno, sono stati eletti il portabandiera, l'alabardiere e il portabaldacchino. Rispettivamente i maestri Ghetano Araceli, classe 87, figlio del maestro Angelo Araceli, Salvatore Salerno, classe 77, primo pasticcere a ricoprire una carica ufficiale all'interno della categoria e Giuseppe Salamanca, classe 88, che invece in passato ha già ricoperto diverse cariche all'interno della stessa.